Questo pomeriggio alle 5 in Piazza di Libertà 2 a Firenze si svolgerà il terzo incontro del ciclo di dibattiti promosso dal Movimento Federalista Europeo, la Gioventù Federalista Europea, il CESO, l'Associazione Marziniana, con tutte le forze politiche europee in vista delle elezioni. Stavolta discuteremo con Lorenzo Marsili di DM25 delle loro posizioni sull'Europa a confronto con quelle dei federalisti europei. Un'altra occasione di dibattito per la cittadinanza per informarsi in vista delle elezioni europee, per capire quali sono le idee sull'Europa sul campo e farsi la propria.